E non nell'ultimo momento, da tanti anni lavoriamo nel territorio. Diciamo che sono venuto più preoccupato, me ne vanno molto più preoccupato. Mi preoccupa molto il intervento della dirigente, che non ho capito bene cosa bisogna fare, però ho capito che non ci sono idee chiare per realizzare sul territorio regionale e nel nostro territorio una struttura sanitaria che dia risposte certe, immediate e non si fa quel ragionamento che anche il professore Fusco ha in regia. Guardate meglio, scusate, interrompo, perché manca l'intervento del dottore Chizza. Mi avete invitato, devo intervenire o non devo intervenire? Allora, sappiamo che siamo un po' di un rato, poi l'occhio è un po' di un rato 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 di un rato.